Qualche minuto più tardi abbiamo visto come i fiocchi di neve sono molto, ma molto più grossi e adesso stanno posandosi sugli alberi, sull'avanzale della terrazza, sui vasi e vanno facquagliando la neve perfettamente su questi posti. Sembra che ha intenzioni di continuare a lungo durante il pomeriggio. Vediamo un po' poi fin dove arriva, eccola, prendiamo qui contro i palazzi che si vede meglio la caduta della neve. Certamente vale la pena immortalare, come dicono qua, questo evento di una nevicata l'11 febbraio 2012 e lasciamo la neve tranquilla, cadere dolcemente sulle strade, sulle case, sugli alberi, sui palazzi vecchi e nuovi di Roma.